Luca Lombardi chiamato a dare un manforte alla squadra, visto le assenze, tanto, tanto, tanto minutaggio a un pista. Sì, la squadra penso avesse bisogno anche di un cambio e ogni volta che mi vengono a chiamare per giocare in A1, penso di farmi trovare sempre presente e dare il mio 100%. È stata una partita difficile, durissima, tatticamente nel primo tempo forse un po' più equilibrato, poi nella ripresa io ho visto molto forte le mani. Sì, sì, io penso che nelle altre partite in cui abbiamo giocato contro l'Odi ci sono state tutte delle battaglie e ci serviva questa vittoria per il morale della squadra e anche e soprattutto per il genere di Champions che ci puntiamo molto noi. Adesso un minimo di riposo e poi si riparte con Bassano. Sì, anche lì è una scuola ostica, un campo un po' difficile, però noi, come dice il nostro cappello che ci ha regalato il signor Bindi, testa bassa e chiappe strette. Insomma, rende effettivamente l'idea. Sarà una partita che credo dal punto di vista tattico sarà difficile perché se è vero che non ci sono nomi eccezionali, grandi giocatori ma non nomi, insomma non è un trissino il Bassano, però è una squadra molto organizzata. Sì, parla comunque anche la classifica che non so, cinque squadre, compresa il Bassano, siamo tutte lì, quindi bisogna giocarcela e andare lì convinti di vincere perché lo possiamo fare con tutte le squadre. Un'ultima cosa, convocazione nazionale Under-23, c'è da lottare anche da quella parte perché qualcuno poi rimane fuori. Sì, sì, sono contento personalmente, si vedrà, dai.